Ciao da Eva! Se state cercando un prodotto che vi dia un po' di sollievo in queste calde appose giornate estive, allora non perdetevi questo video, perché oggi vi parlo del ventilatore raffrescatore nebulizzante Olympia Splendid Peler Chill 99356. Il suo design è molto semplice e caratterizzato da una grande ventola che ospita la parte superiore del pannello frontale. Le sue misure sono di 81,6 cm di altezza, 40,2 cm di larghezza e 21,6 mm di profondità. Alla base sono presenti delle pratiche ruote per facilitarne il trasporto. Olympia Splendid Peler Chill garantisce un'immediata sensazione di freschezza ed è la soluzione ideale per chi non sopporta il caldo e la fa estiva. Come potete vedere nella parte superiore è presente un display a led rotondo in cui è possibile visualizzare le informazioni più importanti come la temperatura, il timer e le velocità, tutte selezionabili tramite i pulsanti che vediamo di lato. È possibile impostare tre livelli di velocità e anche un timer che può durare fino a 9 ore e mezza. Sulla parte posteriore è presente una tannica d'acqua da 2 litri. Olympia Splendid Peler Chill presenta la funzione Mist per un'immediata sensazione di fresco e la funzione Air Clean per un'aria più pulita. Inoltre abbiamo anche la funzione Mosquito che ci aiuta a tenere lontane le zanzare. La portata massima di questo ventilatore raffrescatore nebulizzante è di 789 metri cubi orari. Infine per quanto riguarda i consumi la potenza massima assorbita è di 80 watt. Ovviamente potete trovare il ventilatore raffrescatore nebulizzante Olympia Splendid Peler Chill 99356 su bpmpower.com cliccando sul link riportato in basso in descrizione. Se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace e se vi va lasciateci un commento qui sotto. Vi invito a iscrivervi al nostro canale youtube e ad attivare la campanellina. Continuate a seguirci! Ciao!